Buongiorno Proverà Allora ho deciso Ho deciso anche io Oggi di fare il giro della morte Per finire il scooter Ho deciso di fare definitivamente il giro della morte Dopo 10 anni Il scooter oggi Farà definitivamente il giro della morte No Questo deve campare ancora altri 10 anni ragazzi Un'ottima Il mondo Il Padre Il mondo Il mondo Il mondo Il mondo Il mondo Il mondo Gli occhiano Lo lancio in testa, il poverino in testa e ancora non sono abbastanza caldi ragazzi e ancora non sono abbastanza caldi in testa in testa in testa in testa in testa Facciamo di sentire un forte abbraccio perché loro vengono di questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.